Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Tessilan News. Oggi andremo insieme alla scoperta di un nuovo set borsa. Il suo nome è Set Masai. Andiamo subito a scoprire tutti i dettagli. Ed ecco svelato il set Masai. Come vediamo si compone di due elementi, i manici e questo fondo, ma vediamoli nel dettaglio. Il fondo ha la particolare caratteristica di essere a vaschetta dalle dimensioni di 30 x 10 cm ed è elegantemente rivestito sia all'interno che all'esterno in ecopelle nera. All'esterno invece l'ecopelle ha questo particolare effetto maculato. Il fondo è accuratamente rinforzato con cuciture che rendono il sostegno ottimale. Vediamo nel dettaglio il fondo, che è davvero l'elemento caratteristico di questo set. Ha infatti la misura di 30 x 10 cm, ma la sua particolarità consiste nell'essere un fondo a vaschetta, quindi l'altezza è di 4 cm che va ad avvolgere tutto il fondo lungo la lunghezza, mostrando così l'ecopelle maculata all'esterno, mentre invece internamente da entrambe i lati è rivestito in ecopelle nera. Tutto il fondo è accuratamente rinforzato con cuciture per garantire un ottimale sostegno. Lungo tutto il bordo vi sono i pratici fori per applicare la vostra lavorazione ad uncinetto che hanno il diametro di 0,5 cm. L'apertura che trovate sul fondo scomparirà una volta poi applicata la lavorazione e questo vi permette di non avere una sovrapposizione delle due parti in ecopelle e di avere la distanza perfetta tra i fori. Vediamo ora insieme i manici. Hanno una lunghezza di 60 cm e una larghezza di 1,8 cm. Anche questi giocano con l'effetto maculato, presente sul lato esterno, mentre invece nel lato interno troviamo l'ecopelle nera. I manici all'estremità sono dotati di due pratici fori che vi permetteranno di cucirli alla vostra lavorazione, quindi delle dimensioni anche molto pratiche che permettono una presa confortevole e sicura. Quella che stiamo vedendo insieme è la variante chiaro, ma i colori disponibili sono diversi. Questo è invece il set brown che richiama proprio la natura e forse il colore più classico dei immaculati. Abbiamo poi il rosso che, se possibile, esalta ancora di più i dettagli in nero, perfetto per un look audace e stiloso. E per concludere il colore senape, un colore mai scontato che permette mille abbinamenti. Avete visto un set davvero unico nel suo genere. I manici uniscono stile e comfort. E che dire del fondo a vaschetta, perfetto per avere sempre in ordine a portata di mano tutti quelli che sono gli oggetti quotidiani. Le cuciture rinforzate sono poi simbolo dell'artigianalità e della qualità del Made in Italy. Ogni dettaglio è infatti studiato e accuratamente progettato da Tessiland. L'ecopelle con effetto maculato è sicuramente una scelta di stile audace, ma che dona un tocco di unicità a tutti i vostri accessori. Non vi resta quindi che scegliere il vostro colore preferito ed iniziare a creare. Io vi aspetto al prossimo Tessiland News, ma prima vi ricordo di seguirci su tutti i nostri social, la pagina Facebook Meio di Maya e il nostro gruppo ufficiale, la pagina Instagram, TikTok, Pinterest e il nostro blog. Al prossimo Tessiland News! Ciao!